ciao ragazzi e amici di youtube scusate se non mi sono fatta viva granché ma ho avuto un po di impegni da portare avanti e stasera sono andata a mangiare il sushi mamma mia ora vi faccio vedere quello che mi è rimasto date il spettacolo ho fatto fuori tutto aspettate perché io purtroppo grazie più di un giro più di un giro non riesco a fare ma c'è qualcuno che riesce a fare 5 giri fatemelo sapere e spiegatemi il vostro segreto più che altro